Allora, partiamo. Emanuele noi generalmente dividiamo in due parti, ma tu puoi dividerlo anche in quattro parti, dare delle pause maggiori come preferisci. Allora, diamo tutti il benvenuto a Emanuele Boccanfuso, disegnatore di un'autorevolissima casa editrice italiana, anzi la storica casa editrice italiana del fumetto che è la Bonelli, Emanuele disegna un personaggio che sicuramente tutti quanti voi conoscete, una testata famosissima della Bonelli che è nata Never, ha disegnato la testata Odessa di cui ci parlerà, ma non solo, ha fatto anche degli esperimenti di fumetto sociale di cui parlavamo l'altro giorno, molto interessante, è un disegnatore ricchissimo di riferimenti, ne abbiamo parlato nel nostro incontro, una serie di riferimenti che fanno parte del mio immaginario, ma anche del suo e del grande mondo del fumetto e della cinematografia, perché come vi diceva anche Carmine, il fumetto è il gemello del cinema, non è né il fratello minore né un'altra cosa, è un linguaggio molto vicino alla cinematografia. Io mi taccio, ringrazio Emanuele di essere qui con noi e gli lascio la parola, voi chiaramente ragazzi potete chiedere spiegazioni, approfondimenti, Emanuele è disponibilissima, una persona carinissima, quindi Emanuele, eccoci qui, lascio a te. Ok, allora ragazzi, innanzitutto saluto a tutti, siete tantissimi, quindi cercherò di annoiarvi il meno possibile, cercherò di farvi vedere più disegni possibili in modo che passa più velocemente. Ringrazio anche Antonello per l'invito. Allora ragazzi, io inizierei parlandovi un attimino di come si è snodata la mia carriera dagli inizi, io ho iniziato negli anni del 2000, io ho sempre voluto fare fumetti, proprio da quando ero piccolo, è una frase che avrete sentito ripetere da tutti quelli che fanno questo lavoro, in effetti è veramente un qualcosa di innato, io ho veramente, ho sempre utilizzato, diciamo la particolarità è che non è che mi piaceva disegnare già da quando ero piccolo, mi piaceva proprio mettere tutto in dei riquadri, essendo portato proprio a quello che è il fumetto, l'arte sequenziale, quindi magari anche disegnare non benissimo come si può fare a 5-6 anni, ma raccontare qualcosa, ma sempre interessata in quell'ottica lì di disegno. Quindi, dopo aver fatto Diamento, di suo artistico, a Taranto, io sono di Taranto, anche se vivo a Milano da più di 20 anni, ma dall'accento non si direbbe, ho fatto la scuola del fumetto di Milano, che all'epoca, parliamo del 99, era forse l'unica, adesso ogni città ha una scuola del fumetto, il che è molto buono per il movimento, e ho preso questa decisione, cioè volevo farne una professione, quindi ho fatto questo corso di tre anni, ovviamente è stato molto utile, e dopo di che mi sono ritrovato ovviamente nella giungla del dover cercare di mantenersi facendo questo lavoro. Quindi, diciamo, è stato un percorso veramente tortuoso, al fumetto ci sono arrivato dopo parecchi anni dalla fine della scuola, non abbandonandolo mai, però c'è da dire che con le nozioni che si hanno col fumetto, frequentando una scuola di fumetto, veramente ci si può adattare un po' a tutte le ramificazioni del visivo, del lavorare, di avere una professione legata alla creatività e soprattutto al visivo. Quindi ho lavorato tantissimo con le agenzie pubblicitarie. All'inizio ovviamente io mi sono trovato in quelle annate in cui non sono assolutamente un nativo digitale, ma si iniziava ad utilizzarlo. Io questa cosa ne parlavo con Antonello, ne soffro tantissimo ancora adesso, perché veramente col computer sono una pippa. Ovviamente mi sono proposto di fare tutto quello che si poteva fare, anche in analogico, finché sarà possibile. Ovvio, pian piano l'indirizzo è quello, passare al digitale. Per ora lo utilizzo per cose per cui non ne posso fare a meno, quindi scansionare, impaginare, pulire la tavola, mettere dei retini digitali dove è possibile. E ovviamente, essendo anch'io un professore, mi sono dovuto proprio fare violenza, e in questo periodo di pandemia, fare le correzioni digitali, importare, utilizzare il studio paint, perché è molto simile a Photoshop, però un po' più indicato per chi fa proprio i fumetti. E quindi, diciamo, le mie prime esperienze sono state con le agenzie pubblicitarie. Anche lì, ripeto, la formazione da fumettista mi è stata molto utile, perché i codici sono quelli, le inquadrature, partendo dai campi lunghi, dei primi piani, sono quelle relative al cinema e quindi anche quelle dello spot televisivo. Quindi, utilizzare una data inquadratura per trasmettere la tale emozione, nel piano, quando bisogna trasmettere in maniera più decisa l'emozione di un personaggio, oppure se dobbiamo dare un senso di rilassatezza, i campi lunghi che tendono a creare pietre. Quindi, tutto questo è molto importante proprio perché noi, da creativi, dobbiamo visualizzare sempre l'idea. Lo storyboard per cosa viene utilizzato? Adesso viene utilizzato un po' di meno, però è per passare le informazioni al regista, che deve girare uno spot o, appunto, deve comporlo in digitale. Quindi, è lo stesso meccanismo che si può avere con le sceneggiature nettistiche, in cui vengono date delle indicazioni, in questo caso, al disegnatore, tramite dei codici ben precisi, che sono le inquadrature, dove il disegnatore si mette lì a cercare di visualizzare quella che è l'idea dello sceneggiatore. Uno dei passi iniziali, magari inizio a condividere lo schermo, così posso mostrare qualcosa. Una delle prime esperienze, incredibilmente, è stata con la Paglini. Io facevo ancora il liceo, nel momento in cui, prima di cominciare la scuola, qualche mese prima, vai con i genitori a cercare casa. Io avevo questa fissa di disegnare su un quaderno ogni domenica i gold del Milan. Adesso è una pazzia, sono il tifoso del Milan. Quindi, oltre a disegnare i fumetti che mi interessavano, ricopiare, inventarmi i dineri, c'era questo disegnatore del giornalino, che io compravo il giornalino proprio perché c'erano tre gold disegnati da questo disegnatore, Giovetti. Mi piacevano un sacco. Quindi ho detto, vabbè, perché non tentare? Compravo questa rivista, Forza Milan, e ho proposto un attimino quelli che erano questi disegni. Non sapendo che la rivista faceva parte del gruppo editoriale della Panini. Quindi, ancora dovevo diventare maggiore, ne sono andato a proporre in maniera, ovviamente, maccheronica alla case di tridice, facendo vedere disegni del genere. Forse qualcuno di voi si è appassionato, li ha visti sulla gazzetta o riviste del genere. E quindi, diciamo, il mio primo lavoro, nel momento in cui ero ancora studente, era proprio questo qui, con questa rivista. Bellissima, assolutamente dinamici, stupende. Sì, sì. Ti ringrazio, ti ringrazio. Quindi, diciamo, è stata una fortuna, assolutamente non cercate in questo caso, perché, essendo la Panini a grandissima case di tridice, ho avuto la possibilità di iniziare a lavorare pian piano su cose un po' più grosse, e quindi anche collezioni di figurine relative a eventi, come potevano essere gli europei, i mondiali di calcio. Quindi ho avuto la fortuna di iniziare a fare delle buone collaborazioni già nel periodo in cui ero studente. L'obiettivo, però, era veramente, prima o poi, cominciare a fare fumenti, perché è proprio quello che ho sempre voluto fare. Cioè, cominciare ad essere pagato per fare i fumetti, ovviamente. I fumetti li ho sempre fatti. Vedo che c'è un'alzata di mano. Prego. Marica, prego. Forse è Marica il microfono. Marica? Si è addormentato dopo aver amicciato la mano. Esatto. No, mi scusi, era una cera. Non volevo premere niente. Ah, ok, è scusa. E quindi, diciamo, in parallelo con queste attività che mi permettevano anche di dire il frigorifero, cioè una parte importante, no? Se si vuole diventare professionisti, essere pagati per quello che si fa. Quindi, nel frattempo, che lavoravo come illustratore per riviste, storibordista per agenzie pubblicitarie, continuavo a riempire il falzone che viene dedicato agli esordienti che si propongono in Bonendi, andando a far vedere a quello che adesso è il redattore di Nathan Never, Glauco Guardigli, tutto ciò che facevo lavorativamente e non, proprio per rimpinguare questo faldone, no? Che poi veniva visionato e magari ti davano l'occasione di partire a disegnare uno dei personaggi della Bonendi. Io adesso vi farei vedere un attimino, anche per farvi vedere un attimo quello che è il mio stile di disegno, quelli che sono anche un attimino i miei riferimenti, vi farei vedere un artbook che ho realizzato qualche anno fa, nel 2015, prima poi di parlare in maniera più specifica di come si lavora i monnelli, quali sono le differenze, magari con Nathan Never e Odessa, il tipo di approccio, vi farei vedere questo artbook che mi ricorda anche in maniera molto malinconica ricordare quando si facevano le fiere che speriamo che riprendano presto. Quindi, diciamo, a un certo punto, con qualche annetto di carriera alle spalle, ho deciso di fare un omaggio a quelli che erano i miei riferimenti dal punto di vista fumettistico, cinematografico. Vedrete che saranno dei riferimenti molto tamarri, proprio per parlare chiaro. Però, insomma, il visualizzo, vi faccio vedere proprio l'impaginato, che è quello che comunque è più semplice da visualizzare sul PC. Vedete, c'era una prima pagina dedicata allo sketch, ti acquistava l'artbook, poi aveva giustamente diretto uno sketch veloce, richiedendo un personaggio, quindi di solito negli artbook la prima pagina viene sempre lasciata bianca per questo tipo di possibilità. La prima è una doppia splash con, avrete potuto intravedere, una tartaruga ninja, in questo caso, Leonardo. oppure cercato di tenere sulla pagina sinistra un attimino di work in progress con il disegno a matita e poi un successivo ripasso attivino, iniziale, senza riempire i neri. In questo caso abbiamo Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco ed ecco qui la versione definitiva. Nen, come vedete, sono proprio un figlio degli anni 80-90. Vedete, anche in questo caso, sempre far vedere il procedimento di lavoro, in questo caso la bozza preparatoria a matita e poi il disegno definitivo, l'omaggio definitivo a quest'altro personaggio. Poi, ovviamente, non potevo mettere Nathan Never, in questo caso a livello di bozza rappresentato insieme a due personaggi cinematografici di fantascienza, Vero Robocop e Terminator, che sono due film che amo moltissimo. Ed ecco qui la pin-up dedicata al personaggio. vedete, comunque, ne parleremo, si intravede già delle caratteristiche di questo fumetto, oltre ad essere un fumetto di fantascienza, fantascienza, c'è quest'animo pupo del personaggio, piove molto spesso, una fantascienza molto legata all'immaginario di Blade Runner. infatti, stavo per chiederti questo, è molto, cioè, l'idea dell'ambientazione è molto blederhane. Volevo farti una domanda, se mi è possibile. Intanto, sono stupendi, io già conosco il tuo segno e lo amo e penso che tu sia in assoluto una delle migliori mani della Bonelli. Questi lavori sono fatti con tecnica tradizionale, quindi dalla matita all'inchiostrazione. Nell'inchiostrazione, mi sembra di comprendere, però dimmi se sbaglio, una tecnica mista di pennino e di pennello, mi sbaglio? Allora, sì, per questione di velocità, più che il pennino, proprio utilizzo i pennarelli, con il Pigma o Stedler di varie misure, quindi da 0,1 per i dettagli, ad esempio, del volto a 0,3, 0,5 per modulare più il tratto. Poi utilizzo molto la brush pen, che sono queste penne con la punta a pennello, sia per riempire i neri o per dare, diciamo, l'effetto del tratteggio in alcune zone, oppure per modulare delle zone, dei tratti un po' più grandi. Che il tratteggio delle ombre è molto morbido, vedo, molto bello. Sì, sì, poi magari alcune volte viene anche ripreso proprio brutalmente con righe squadra, magari per tirare un po' di più la linea, però diciamo, più o meno sono questi gli strumenti che utilizzo. Poi magari per zone più ampie di nero, vado proprio con la classica boccetta di chiostro di china e pennello a riempire da queste zone più ampie. anche utilizzo anche le penne con l'inciostro bianco per alcuni effetti, per la pioggia o ad esempio queste macchioline le do con l'acrilico bianco spruzzato con lo spazzolino. Questa vedrete poi sarà molto utile per le scene nello spazio. si può dare l'idea delle stelle, dei vari raggruppamenti celesti semplicemente spizzando acrilico sul nero. Dicevi Antonello? No, dico bellissimo, mi piace tantissimo la tua plasticità, guarda, veramente. Ti ringrazio, ti ringrazio. Molto, molto bella. Prego. No, puoi cercare ho cercato sempre di mettere in quest'artbook sia la realizzazione finale, che più o meno questa che vedete in queste immagini, sia la bozza iniziale, che come vedete deve essere sempre molto veloce, molto istintiva. Su questo veramente facciamo lezioni su lezioni a scuola, proprio perché la caratteristica del fumettista, ma penso anche di chiunque faccio un lavoro legato al visivo, sia di visualizzare in maniera molto veloce l'idea per poi andare a rifinirla con la tecnica di riferimento. E lì ci si può mettere tutto il tempo del mondo con segne permettendo. Diciamo che è molto difficile metterci tutto il tempo del mondo perché magari poi anche con Carmine avrete visto ci sono consegne molto pressanti nel nostro lavoro. E ripeto sempre ai miei studenti che fare fumetti è cercare di fare il meglio che si può nel tempo che c'è a disposizione. È ovvio che se si ha un tempo infinito per fare una tavola magari anche con gli strumenti a disposizione oggi forse un po' tutti ne potrebbero essere capaci. Invece la caratteristica di chi fa professionalmente questo lavoro è anche la velocità. Vedete qui un altro personaggio vecchissimo l'uomo tigre una delle cose che ho sempre preferito era un cartone animato di una violenza inaudita e io mi ricordo lo vedevo c'è mia madre che mi racconta che lo vedevo in braccio a lei quando ero proprio piccolissimo in realtà in questo cartone animato si versavano otto litri di sangue ogni puntata e quindi non potevo non omaggiarlo avendolo visto un sacco di volte. Questo invece è un fumetto di cui parleremo un po' più avanti è una delle mie prime non autoproduzioni comunque è stato prodotto da una casa editrice che adesso è anche abbastanza importante da Nicola Pesce Editore con lo sceneggiatore Alex Scrippa abbiamo avuto questa pazza idea di fare un fumetto palindrome in cui già dal titolo palindrome sono quelle frasi o parole che si leggono nella stessa maniera da una parte e dall'altra il fumetto si chiama Arca Sacra e anche esso appunto si legge da una parte e dall'altra allo stesso modo e vi faccio vedere anche un attimo com'è conformato che può essere la caratteristica di questo fumetto era che si poteva iniziare a leggere da una parte o girandolo dall'altra le due storie che avevano come protagonista quindi potete vedere una suora e una prostituta andavano a incontrarsi poi al centro dove c'era una doppia splash la doppia splash page è una pagina che prende due fogli quindi l'apertura totale dell'albo uno può iniziare a leggerlo sia da questa parte che da questa arrivato a metà superato un certo limite si accorge che poi le pagine sono al contrario quindi riparte dall'inizio e ci sono delle robe che vengono sviscerate anche nell'altra storia diciamo per avere una visione completa del fumetto bisognava leggere tutte e due le storie per tirare tutti i filmi della della narrazione diciamo è stato un piccolo esperimento che ci è piaciuto molto fare ma poi bellissima idea io quando quando ho letto di Arca Sacra che avevi disegnato tu mi domandavo ma come fanno a fare una cosa pari in Roma anche scrivere intrecciare due storie e dare questo senso circolare alla lettura non riuscivo a capire come fosse possibile no no ma infatti cioè Alex è stato proprio anche in termini scrittura difficilissimo sì sì diciamo che ovviamente nella narrazione era un po' il canovaccio no ad essere palindromo poi diciamo la narrazione all'interno è abbastanza lineare però diciamo abbiamo potuto sperimentare perché ad esempio c'è una scena che magari vediamo dal lato della narrazione dedicata ovviamente le protagoniste si chiamano Anna e ha che ho preso i primi due nomi palindromi che ci sono venuti in mente ad esempio la scena c'è una scena insoggettiva e poi un'altra che invece viene ripresa dall'esterno e anche lì è uno snodo della storia andiamo da due punti di vista ad versi mi è stata data la possibilità di lavorare su ambienti tutti reali quindi il fumetto è ambientato in Puglia e quindi sono andato a fare foto in giro come documentazione è stato diciamo molto divertente ad ogni diciamo ambiente che troviamo all'interno della storia corrisponde un ambiente reale io mi ricordo c'è la casa del boss che era una sala ricevimenti io ero andato al matrimonio di un amico e fotografavo questo salone pensando questa potrebbe essere un'ottima location per la casa del boss quindi qui vedete uno studio a matita e poi la pin up completa ovviamente vedrete vedete che anche qui che non sono da graphic novel l'intimista ma cerchiamo sempre di metterci un po' d'azione poi appunto non avendo i paletti che si possono avere con una grossa tasiditrice non abbiamo avuto nessun tipo di censura e siamo potuti andare diciamo con l'acceleratore tirato per raccontare una storia anch'essa a tema sociale perché tratta lo sfruttamento della prostituzione e insomma dando un po' di puni nello stomaco al lettore per far arrivare meglio il messaggio andiamo avanti c'è un questo personaggio della marvel che punish vedete qui addirittura ho voluto mettere la bozza iniziale quella in cui si scarabocchia finché non viene fuori una forma e ci soddisfi per poi andare a rifinire tutto col tratteggio con delle linee più limite un altro fumetto che adoro Prinsher non so se qualcuno di voi l'ha mai letto ne hanno fatto anche una serie televisiva in cui c'è questo predicatore un po' sui generis una delle caratteristiche era che gli parlava sotto forma di spinto guida John Wayne che non si vedeva mai in faccia e diciamo in questa pin-up ho voluto riprendere questo momento del fumetto oppure penso lo conosciate tutti Dylan Dogg è stato forse il primo fumetto un po' più da adulti che ho iniziato a leggere intorno agli 11-12 anni è da lì proprio deciso che avrei voluto disegnare il Bonelli poi magari ne parliamo ma la gabbia Bonelli ovvero la disposizione delle vignette è forse quella di più facile lettura proprio perché parliamo di fumetto popolare la Bonelli fa fumetto popolare a partire dai prezzi sono ancora prezzi accessibilissimi adesso siamo su 3,90 euro mi pare 4 euro comunque costa ancora meno di una unità di birra ed è un qualcosa che ti rimane per sempre è un fumetto che può leggere il lettore occasionale perché era la grande forza della casiguitrice ma anche appunto lettore affezionato collezionista per cui ha avuto subito un impatto molto forte su di me proprio perché era molto semplice da leggere pur avendo delle tematiche che magari per l'età che avevo erano un po' più adulte qui ovviamente essendo Dylan Dog londinese non potevo ed essendo un fumetto a tema horror ci ho fatto la regina in versione zombie Dylan Dog che svolge un po' quello che è il suo lavoro la chiappa mostri vinti eccetera e qui un dettaglio della matita bellissimo Radostin voleva farti una domanda eh Radostin eh sì 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 ve lo chiederemo normale innanzitutto ciao buongiorno ciao ho visto appunto questa tavola che hai fatto del Dylan Dog e compare nello sfondo anche Carlo come si chiama Karl Marx no Grausio Marx sì sì Grausio Marx ecco sto pensando siccome è una persona che esiste veramente anche se è morto è un grande però quando devi fare una smorfia sua che magari non c'è nelle foto nei film come fai a disegnare quella smorfia se non l'hai mai vista sull'attore cioè tu le immagini come fai a riproporre quel fomento c'è un piccolo trucchetto che quasi tutti i disegnatori hanno sulla scrivania uno specchio in modo che quando devono riproporre un'espressione che magari non trovano tramite retteres fotografiche praticamente la mimano e poi la adattano alle fattezze del personaggio che devono disegnare quindi diciamo uno dei metodi è questo proprio mimare l'espressione che bisogna fare è una cosa che vista dall'esterno e io dico oddio questo è pazzo però è una delle robe che fanno più o meno tutti i disegnatori però è bello che funziona proprio su persone che esistono veramente realmente e questa è la cosa sì 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 diciamo poi appunto la maestria del disegnatore deve stare nell'adattare l'espressione mia ad esempio in questo caso a un vizio con i baffi i capelli delle caratteristiche diverse no? facciali però i muscoli facciali sono sempre quelli le rughe sono sempre quelle poi variano seconda delle caratteristiche no perché stavo pensando che ne so a un attore con una faccia con una tisionomia molto particolare hai presente gli attori caratteristici nel film no? sì sì quelli se trovi cioè se non trovi una smorfia perché magari è morto quell'attore però nel suo film o nelle sue fotografie non è ritratto proprio con quella smorfia uno dice ma come faccio quindi posso adottare tutti questi espedienti ma poi alla fine se c'è però nel particolare tu vai con la foto reference dell'attore che vuoi che vuoi proporre e la smorfia la riproduci tu guardi allo specchio e cerchi di adattarla al disegno dell'attore perfetto grazie mille Emanuele per figura ecco allora vado avanti quindi qui siamo Dylan Dog qui ovviamente Batman anche questo diciamo c'è un aneddoto che racconto sempre ed è lontano 89 ed era appena uscito il il primo film di Tim Burton di Batman e cioè pur non essendoci internet scoppiò veramente una mania mondiale per questo film ricordo volevo lo zaino di Batman avevo otto anni all'epoca la maglietta c'erano le sorprese nelle merendine gli album di figurine quindi per Natale avevo chiesto agli miei di regalarmi uno di quei libri fotografici che si fanno per i film cioè per me Batman era quello interpretato da Michael Keaton e in realtà mi hanno preso in maniera assolutamente inconsapevole no? i miei genitori non mi sono appassionati di fumetti infatti non ci si spiega perché abbia questa passione tra l'altro ho anche un fratello che fa il pittore quindi non si sa da dove è saltata fuori questa predisposizione artistica quindi al posto di prendermi un libro relativo al film di Batman mi hanno preso erroneamente il ritorno del Cavaliero Oscuro di Frank Miller che è uno dei fumetti insomma che stanno penso sul podio di qualsiasi disegnatore quando vi deve parlare di fumetti che indispensabile avere è un fumetto con tematiche adulte e io mi sono ritrovato a leggerlo a otto anni e questo ovviamente penso mi abbia condizionato un po' anche nelle tematiche nel modo di disegnare e quindi ho voluto omaggiare quel Batman Batman che è un Batman un po' più vecchio appesantito in una scena la scena della discarica che si trova in quel fumetto e qui come vedete sempre bozza matita work in progress rifiniti un ratchino mi ricordo di quella di quell'albo ci sono un sacco di pagine con Batman con le pupille disegnate da me con l'abbiro perché non mi spiegavo il fatto che una persona umana si mettesse un cappuccio e sparivano le pupille proprio avendo visto il film dicevo vabbè comunque gli occhi ce li ha e quindi diciamo ci sono c'è questa aggiunta nel fumetto che ho a casa Batman poi fra l'altro Emanuele è uno dei personaggi come dire più controversi affrontati in maniera io ricordo sempre di quegli anni lì un Batman è uscito su come Cart che era di Dave McKean che era inquietantissimo con interventi materici sulle tavole questo Batman demonio dentro l'ospedale psichiatrico con schizzi azione di action panting era inquietantissimo no no bellissimo per cui è stato veramente affrontato da come dire dai serial americani gli anni 50 non so se ti ricordi quelli sì sì quelli con Adam West c'aveva i quadri chiaramente di plastica e poi nei telefilm c'era questo bang cioè questo onomatopoe da fumetto fino a Dave McKean che era un fumetto veramente quando ho letto da ragazza era veramente inquietante bellissima infatti essendo un fumetto con una longevità incredibile degli anni 40 se non proprio del 39 come è nascita potrei sbagliarmi però siamo in quegli anni lì ha veramente passato delle fasi appunto quella super pop degli anni 60 sul traino del telefilm negli anni 70 ha virato verso l'horror quindi c'era questo batman vampiresco con queste corna lunghissime per poi essere ripreso negli anni 80 da Frank Miller in questo batman praticamente sessantenne che decide di ritornare in azione facendo veramente un lavoro di rivalutazione anche di tutti i nemici batman poi è stato interpretato da artisti di tutte le fogge da Simon Bisley anche lui un po' alla McKean un po' più muscolare ma fatto questo batman ipertrofico di Jim Colin con un tratto molto più elegante che lo girava all'horror un personaggio che veramente si presta a qualsiasi tipo di interpretazione poteva andare veramente su tutti i generi poi vediamo vediamo qui c'era un omaggio alle commedie degli anni 80 quindi Eddice Fenec Gloria Guida Lino Banfi e Alvaro Itali versione a matita versione a china questo invece era un vecchio progetto che avevo portato avanti con due amici registi quindi questa era un po' la splash di presentazione di questo personaggio come a Los Angeles con la neve fatto abbastanza raro se non proprio unico invece un altro personaggio che mi è sempre piaciuto tantissimo della Marvel ovvero Wolverine vedete qui la bozza iniziale con un po' di studio dell'anatomia della prospettiva visto che comunque era inquadrato dall'alto e qui la versione definitiva e poi diciamo un omaggio a uno dei miei scrittori preferiti ovvero Bukowski un'immagine vedete un po' più fresca diciamo segno i fumetti cerco di essere molto pulito graficamente quindi sono lasciato un po' più andare mettendo andando a fare un disegno un po' più schizzato diciamo questa mi sembrava un'ottima occasione per farvi vedere un attimino anche quello che è il mio stile di disegno prima di entrare più incisivamente nel capitolo fumetto ecco visto che abbiamo già parlato di Arca Sacra faccio vedere un po' di tavole i tavole sono molto acerte erano proprio inizio carriera vedete qui abbiamo le due copertine lato Anna e lato Ada anzi lato Anna e lato Ada e qui era proprio come si presenta fisicamente ho pensato di farvi vedere qualche tavola qui abbiamo il monastero in cui c'è la suora protagonista della vicenda è questa caratteristica della suora che ogni tanto parla con questo Gesù Cristo che gli suggerisce delle cose vedete qui ci sono delle vignette che dovevano riprendere delle notizie date al TG quindi le ho adattate a quello che poteva essere uno schermo televisivo anche per differenziarle dalle vignette normali diciamo quindi vedete rispetto anche alla pin-up che sono le illustrazioni che vi ho fatto vedere all'interno dell'artbook nel fumetto bisogna iniziare a fare attenzione a veramente un sacco di particolari lo dico sempre ai miei studenti cioè fare fumetti non è facile perché implica che vedete all'interno di una tavola oltre al disegno fine a se stesso che è bellissimo uno si mette lì disegna una bella cosa per un personaggio maschile femminile bisogna aggiungere a questo tipo di disegno la prospettiva lo studio di luci ed ombre l'anatomia il panneggio e fondere tutto all'interno di vari riquadri che devono avere un'armonia non solo all'interno della pagina ma proprio all'interno dell'intero racconto quindi scegliere quella determinata inquadratura quel determinato dettaglio anatomico quel determinato taglio di luce per dare atmosfera in più bisogna diventare esperti della materia di cui tratta il fumetto infatti vedevo Emanuele che grande studio sul costume tu fai il costume della scuola oltre che i costumi fantastici un grande studio proprio sul costume sugli oggetti sugli architetture la c'ho riconosciuto delle architetture proprio anche per questo cioè sono andato in giro con la macchina fotografica questo monastero che è in zona marticolo di Taranto oppure questa è la chiesa di un altro paese vicino a Taranto cercato è bellissimo inventare nei fumetti però la documentazione fotografica proprio per capire come è fatta una determinata architettura è altrettanto importante diciamo già lavorando nella fantascienza sono fortunato perché posso inventare molto posso anche adattare qualcosa di attuale a come potrebbe essere fra 200 anni però diciamo cerco sempre di partire da delle reference ben precise quindi dicevo anche a livello teorico magari devi fare un fumetto di guerra quindi sapere tutta la situazione sociale politica di quel periodo come sono fatte le divise le armi come poteva essere una città in quel determinato momento storico quindi diciamo porta un grande lavoro di documentazione preliminare per poi applicare le conoscenze sul disegno e di stile che ogni disegnatore ha cioè una storia del genere poteva essere anche fatta con uno stile umoristico perché no però non si deve prescindere mai dalla conoscenza dell'argomento proprio perché anche in uno stile umoristico per distorcere un qualcosa bisogna conoscere come è fatta quella cosa che sia un'anatomia o una prospettiva qui abbiamo questo era il lato dedicato alla suora vi ho editato le scene più cruente e questo è il lato dedicato a quella che viene costretta a diventare una prostituta cioè vedete già le prime tavole fanno vedere un barcone proveniente dall'Albania ovviamente non era l'aspirazione di queste povere ragazze parlo quindi qui c'è tutta la scena relativa all'arrivo e poi qui ci sono un po' di scorci che si possono vedere nella campagna pubigliese così come il classico tre ruote che fa parte del del paesaggio diciamo quindi diciamo questo è stato uno dei miei primi fumetti in cui ho avuto veramente ampia libertà nel disegno nel nel rappresentare ciò che era descritto in sceneggiatura avete visto utilizzato una gabbia molto regolare appunto una gabbia Bonelli perché proprio la testa comunque era lì volevo entrare lì quindi nel frattempo prima di entrare in Bonelli ho anche fatto un fumetto per ce l'ho qui state non me l'ero preparato quindi per la rivista Focus Union giusto per farvi vedere come poi si utilizzano stili differenti a seconda del target diciamo passando da un fumetto che possiamo definire quasi underground a un fumetto per bambini fumetto che usciva su Focus Union con una rivista della Mondadori che c'è ancora adesso comunque anche sempre questa fissa per il fumetto sportivo calcimistico ho cercato sempre di dire queste due passioni e quindi abbiamo proposto questo fumetto tra l'altro nell'anno dei mondiali del 2006 che potesse offrire una storia quella Oli e Benji quindi scuola storielle tra gli alunni quello un po' più fighetto quello un po' più sfigatino i vari stereotipi che ci sono e abbiamo fatto questo fumetto sempre in salsa mostrana quindi le ambientazioni erano quelle classiche del paesino italiano col campetto dell'oratorio la scuola il metodino tutte queste robe qui quindi diciamo è stata un'altra incursione in un tipo di fumetto che mi sono adattato a fare e mi è piaciuta molto comunque quindi vedete c'è uno stile di disegno molto diverso da quello utilizzato ad esempio per Arca Sacra uno dei passaggi anche per arrivare in Bonelli è stato collaborare con questa casentrice inglese la David West Children's Book che ho conosciuto alla fiera di Bologna la fiera del libro per ragazzi che appunto ovviamente quest'anno l'anno scorso è saltata magari è qualcosa che può anche interessarvi di più per il vostro percorso di studi è una fiera che adesso che riprenderanno un po' le attività normali speriamo al più presto vi consiglio tantissimo ci sono e a Bologna di solito appunto in questo periodo dell'anno marzo aprile e ci sono tutte le case editrici libri per ragazzi di tutto il mondo e avete la possibilità di girare col vostro book a far vedere quelli che sono un po' i vostri lavori di illustrazione che siano analogici o digitali è vero che adesso via mesi si può fare tutto però ancora il contatto umano con l'editore conta molto ve lo posso assicurare quindi il fatto di presentare far vedere quello che fate presentarlo come un buon portfoglio e comunque ci sono anche tutte quelle piccole sfumature che possono derivare solo dalla conoscenza personale con un editore con un agente infatti cioè io veramente a quei tempi la giravo come turista quasi ma ho visto che c'era una case editrice che faceva anche fumetti aveva questo modo di interfacciarsi con la scolastica con il linguaggio dei fumetti quindi spiegava dei mestieri particolari o delle biografie di personaggi storici e anche lì sono entrati in contatto con un modo diverso di fare fumetti molto teso a favorire il disegnatore e la prima volta e non è mai più successo forse l'hanno anche adottata per lavorare in maniera più plurida con collaboratori stranieri magari non senti benissimo la lingua allora cosa facevano invece di darmi solo una sceneggiatura scritta la sceneggiatura dei fumetti proprio pagina 1 vignetta 1 descrizione dell'inquadratura dell'ambiente dei personaggi e dialoghi invece di darmi solo la sceneggiatura scritta mi davano già degli storyboard fatti da un altro disegnatore che io dovevo solo portare a definitivo questo mi alleggeriva molto il compito perché invece di leggere tradurre impostare io la pagina me la impostava già un altro e io dando un'occhiata a ciò che c'era scritto nel balloon che sono le nuvolette di dialogo che ci sono nei fumetti e un'occhiata alla sceneggiatura potevo accelerare di molto il lavoro la ricerca di documentazione me la facevano già loro una cosa che poi non è più capitata diciamo a questo livello vedete erano libri in questo caso la biografia di Malcolm X in cui questa biografia lei mi va spiegata a fumetti in maniera molto semplice un tipo di narrazione molto semplice con tante diascalie però diciamo immagino un ragazzino che si deve approcciare a una storia sempre più gradevole magari di verla su un fumetto piuttosto che studiarla da un libro quindi diciamo c'è stata anche questo tipo di esperienza veramente ho fatto di tutto prima di fare i fumetti per la Bonelli e diciamo farla diventare la mia attività principale insieme a quella dell'insegnante un'altra cosa che poi Emanuele ti dicevo l'esperienza del fumetto in termini didattici ha una tradizione importante pensiamo ad esempio a Enzo Biaggi Milo Manara con la storia di Italia a fumetti che uscì tutta la serie per Mondadori che era bellissima anche lì con grandi didascalie che spiegava passo passo i grandi personaggi che erano di pomeriggio della storia di Italia è uno strumento di comunicazione e divulgazione fortissimo sì 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 no che per fortuna utilizzato anche adesso che è veramente cioè nell'era dei social è sempre più difficile no anche far leggere quattro pagine di fumetti no deve essere tutto velocissimo però diciamo ancora per strumenti divulgativi è molto utilizzato il fumetto e soprattutto molto più richiesto che in passato proprio perché diciamo adesso il fumetto ha anche una una gratificazione generale no è un po' più riconosciuto come arte se veramente prima quando ero piccolo io era veramente qualcosa il fumetto è una roba per bambini poi a otto anni ho letto Frank Miller ho detto col cavolo che è una roba per bambini e adesso diciamo essendo un po' più sdoganate le grafiche nove le ho personaggi grandiosi come Zero Calcare reggiti che hanno avuto la possibilità con una notorietà maggiore di dare quest'idea di fumetto che può raccontare anche robe serie e molto intime e personali anche vivendoci su come fa Zero Calcare diciamo che adesso c'è un maggior riconoscimento del fumetto proprio come come linguaggio basti poi anche pensare che ormai al cinema forse più della metà delle robe che vediamo sono tratte da fumetti quindi sono anche un ottimo spunto a parte il cinecomic della Marvel ma diciamo anche molti film drammatici poi vai a vedere sono tratti da graphic novel storie a fumetti libri one shot quindi senza avere una tradizione come può avere la Marvel la DC con tutto quello che hanno potuto dare a livello proprio di idee al cinema per esempio un'altra roba che mi è capitata di fare proprio per ricollegare sempre il fatto che il mondo del visivo è sempre collegato cioè le nozioni che devo buttare dentro per fare una pagina di fumetti sono le stesse magari togliendo qualcosa o aggiungendo qualcosa che dovrò utilizzare per delle illustrazioni è capitato qualche anno fa che ho dovuto preparare un disegno che sarebbe stato poi utilizzato come scenografia in un film di Salvatores che è l'ultimo il penultimo che ha fatto tutto il mio folle amore è uscito forse un paio di anni fa c'era appunto una scena in cui si doveva vedere la segnaletica la locandina di un locale di lapdance e quindi dovevo realizzare questa illustrazione che poi sullo schermo cinematografico veniva in grado di vita era questo segnale che si vedeva su una strada della Croazia mi pare con questa ballerina di lapdance gigantesca vedete lo studio è sempre quello matita china punita e poi la colorazione digitale che non ho fatto io ma la mia validissima collega Valentina Grassini e anche per questa singola immagine abbiamo avuto un sacco di documentazione da parte della produzione la tizia doveva essere così doveva avere i capelli biondi doveva ricordare un po' le pinaffane 50 doveva avere questo tipo di scarpa questo tipo di top questo tipo di pilotte era veramente un lavoro che è stato giustamente qui siamo nell'ambito della professionalità quasi teleguidato doveva avere questa posa diciamo essere professionisti e anche sapersi mettere al servizio di quello che viene richiesto in maniera appunto professionale e applicare tutte le conoscenze che si hanno in una singola immagine senza sfondo senza niente di particolare ci sono domande ragazzi mi piaceva Emanuele sottolineare come il tuo lavoro abbraccia diverse discipline che loro hanno in accademia dal costume alla scenografia all'architettura c'è dietro il fumetto che a un neofita può sembrare molto semplice c'è un flusso di lavoro preciso con i team di lavoro c'è uno studio dietro prima di arrivare alla definizione delle forme importantissimo altrimenti prima ad esempio tu parlavi dei drappeggi della suora perché altrimenti quel tipo di plasticità non riesci ad ottenerla che è bellissima e mi piaceva molto e mi ha fatto venire in mente su questa cosa della contaminazione delle arti con il cinema con il fumetto e la capacità del fumetto di raccontare anche biografie che sono state affrontate anche nel cinema e mi veniva in mente Billie Holiday fatto da José Munoz ad esempio che ha un segno jazz se tu pensi il jazz quanto è stato affrontato nel cinema dal primo film sonoro del Jack Singer nel cantante jazz dove gli attori erano ancora bianchi pitturati di nero perché l'america razzista non lo voleva e Munoz lì in Billie Holiday riesce proprio a darti questi sapori jets i sapori della popolazione nera americana con poi con i suoi dettagli sono dei piani di nero che anche tu usi tantissimo le profondità con i piani di nero e quindi questa contaminazione che è una contaminazione consapevole perché poi dietro c'è un grosso studio come dicevo prima di tutto quello che non solo è l'aspetto evidentemente tecnico sulla forma dell'architettura e sulla forma del costume ma anche sul sapore sociale che è molto molto importante mi piaceva molto questa cosa no ma quelli appunto cioè sempre riguardo al fatto che si mescolano insieme molte nozioni cioè proprio una delle prime robe che cerco di trasmettere anche agli allievi a scuola diciamo con le conoscenze base di fumetto visto che comunque poi anche per esperienza personale ho messo un sacco a lavorare facendo fumetti nel frattempo ho fatto qualsiasi cosa sempre legata al mondo del visivo quindi nel momento in cui si prepara un caratter di personaggio per una storia a fumetti è una nozione spendibile per fare il caratter designer per i videogiochi per i giochi di ruolo per per anche l'animazione molto spesso lavoriamo in team con il corso di 3D in cui magari ci sono i ragazzi di fumetto che si occupano del caratter poi vengono passati agli allievi di 3D che ci fanno dei corpi animati caratter realistico caratter rumoristico uno scorso mi ricordo il tema era sul riciclo quindi erano magari come so la lattina il tetra pack animati quindi diciamo c'era tutto uno studio a seconda di ciò che bisognava rappresentare o appunto racchiudere in un'unica immagine quindi come può essere un'illustrazione o una figurina ho fatto anche le figurine comunque i concetti di composizione dell'immagine renderla equilibrata anatomia prospettiva tutto che rientra nel macro campo della composizione oppure abbozzare velocemente utilissimo per gli storico ci ho campato per anni con gli storico in maniera molto veloce riprendere le imprese principali di macchina e anche lì si lavora più o meno come si lavora per i fumetti documentazione la protagonista dello spot deve essere così deve essere vestita così una scena si svolgerà in questo ambiente in quest'altro ambiente c'è quest'altra scena quindi cerchiamo veramente di far interagire anche la questione di cui si parlava prima con non mi ricordo il nome il ragazzo che aveva fatto la domanda Radustin Radustin molto spesso sì sì no praticamente per lavorare bene sull'espressività dei personaggi ecco altra cosa no che bisogna applicare nel fumetto il personaggio recita quindi come gesticola come quali sono le sue espressioni no e quindi magari si fanno dei laboratori con i ragazzi di teatro che gli mimano l'espressione che devono riprendere poi nel fumetto e quindi c'è anche questo tipo di di approccio al lavoro è veramente un'arte il fumetto che racchiude tutto bisogna sapere fare un po' di tutto proprio perché è come se girassimo un film ma siamo noi i sceneggiatori responsabili del casting questo personaggio lo vedrei interpretato da Bruce Willis perché ha queste caratteristiche qui oppure tecnico delle luci regista c'è mille inquadrature quindi diciamo è un bel lavoraccio sembra effetti nella tavola quella della suora del fumetto palindromo c'è una una tavola di quelle che hai fatto vedere c'è una drammaturgia della luce molto importante con questi tagli molto netti dove si vedono soltanto gli occhi esattamente però sì sì esattamente assolutamente drammatico però come dire senza mai perdere però quelli che sono gli elementi che la caratterizzano il costume l'ambientazione però c'è un taglio molto molto bello di luce qua certo poi anche diciamo ti ringrazio per ricollegarmi a quello che appunto volevo dire adesso anche sapere quando scardinare un po' le regole vedete in questa tavola in realtà la luce è irreale qui diciamo dove c'è questa forma elliptica ci dovrebbe essere un taglio di luce però un toglie efficacia a rappresentare il crocifisso oppure appunto come diceva Antonello queste questi volti completamente neri in realtà qualcosina si dovrebbe vedere o questa silhouette però per fini drammatici possiamo interpretare proprio imparare le regole per poi scardinarle mi premeva Emanuele se mi permetti far notare una cosa agli studenti sulla vignetta in alto che tu ribalti in quel caso proprio per motivi drammaturgici quella che è la regola per cui tutto ciò che è scuro va in fondo sta in fondo e tutto ciò che è chiaro sta avanti quindi secondo la regola la parte in fondo sarebbe dovuta essere più scura e la parte più chiara più avanti in realtà tu ribalti questa cosa perché ti interessa far uscire quel crocifisso cioè focalizzare l'attenzione su quell'area lì no? quindi utilizzi la regola al contrario quindi quando noi vi spieghiamo le regole quella è la regola ma poi il sapere dell'artista è anche prendere quella regola e stravolgere relativamente a quella che è la sua necessità narrativa no assolutamente assolutamente allora ragazzi se volete e se Antonello è d'accordo possiamo fare una pausa ditemi voi di quanto va benissimo partiamo a bomba con Labonelli benissimo va bene allora ci diamo una decina di minuti di pausa ragazzi così anche Emanuele riprende fiato devo due litri d'acqua anch'io ho i miei due litri d'acqua e adesso sono le dieci e mezzo e quindi riprendiamo per diciamo un quarto dose alle dieci e trentadue riprendiamo alle dieci e quarantacinque va bene? perfetto ok a tra poco se avete domande preparatevele assolutamente ok